Rimettiti in forma, vieni da Baia Spa. Meraviglioso percorso di tre ore, centro massaggi e trattamenti estetici corpo, viso, mani e piedi. Inoltre puoi prenotare una serata esclusiva in spa completa di servizio aperitivo per il tuo compleanno o ricorrenza speciale. Scopri l'evento Spa Lounge. Tutti i venerdì spa più aperitivo a 45 euro. Dalle 18 fino alle 21 si può usufruire dell'aperitivo nel bar panoramico. E la spa rimarrà aperta fino alle 24.